Alessio Boni, Antonella Ruggero, Anna Foglietta, Angela Finocchiaro, Lino Guanciale, Lella Costa e Michele Mirabella saranno alcuni dei protagonisti dell'estate culturale al Maggiore di Verbagna. Una ripartenza per tornare a vivere insieme la musica, la prosa, l'opera e la danza dopo mesi di stop nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. La stagione è stata presentata dal sindaco Silvia Marchionini, dalla presidente della Fondazione, il Maggiore Rita Nobile e dalla direttrice artistica Renata Rapetti. Il cartellone prevede anche un percorso dedicato al settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri con un'attenzione particolare al turismo per permettere di scoprire, grazie alla cultura, la bellezza del territorio. Si comincia il 5 giugno con Anima Smarrita, il primo dei quattro spettacoli dedicati a Dante a cura di Alessio Boni e Marcello Preier con brani della commedia alternati a testimonianze audio di poeti del Novecento Italiano. Il 13 giugno concerto con Antonella Ruggero che fonde pop, musica sacra e armonie dal mondo. Il 17 giugno in scena i monologhi della Vagina con Roberta Lidia De Stefano, Alessandra Faiella, Eva Riccobono, Marina Rocco e Lucia Vasini. Il 30 giugno Angela Finocchiaro proporrà con Daniele Trambusti, Che bestia che sei, un reading da testi di Stefano Benni. Il 3 luglio torna Lino Guanciale con Non svegliate lo spettatore dedicato a Ennio Flaiano. Il 4 luglio l'orchestra dei pomeriggi musicali proporrà un concerto dedicato ai 250 anni dalla nascita di Beethoven. Il 9 luglio danza con la M.M. Contemporary Dance Company e il loro Carmen Bolero. Il 13 luglio il noto psicoanalista Re Calcati proporrà Amen, risate il 16 luglio con Elio in Ci vuole orecchio, recital sulle canzoni di Enzo Iannacci. Il 18 luglio gran galà per la giornata mondiale della danza con la compagnia Egrig Bianco Danza. Il 23 luglio in scena Joelle Dix con Vorrei essere figlio di un padre felice. Il 31 luglio Anna Foglietta con la bimba col megafono, istruzioni per farsi ascoltare. L'opera sarà protagonista il 7 agosto con Gianni Schicchi di Puccini. Il 26 agosto ancora danza con scritto sul mio corpo della compagnia Egrig Bianco Danza. Lella Costa il 3 settembre poporrà Interletto d'amore dedicato a Dante e i suoi personaggi femminili. Così come l'11 settembre Michele Mirabella presenterà Mamisi Me per l'Alto Mare Aperto. Conclude la stagione l'orchestra verde di Milano diretta da Elena Casella il 24 settembre. I biglietti saranno in vendita dal 20 maggio. Novità della stagione la collaborazione con l'action agency di Manuela Ronchi per la comunicazione.